Uno Due Si attaccano qui Non ti permettono di liberarsi Controllano qui Vedete? Difficile Adesso io voglio uscire Non mi permettono qui Sì Sì Così Tu puoi fare con la pasta e ti neri bene Vedete? In realtà c'è la posizione Guarda cosa faccio Io metto piedi a terra Sì E come faccio? Perché la piano faccio Pops Pops E camina Pops Però guarda, non si provo spazio tra la pappa Ah? Qua, qua, qua Non spazio... Non, io Controllo Ah nel mentre Tu vedi Vedi Tu vedi Tu sai che io voglio uscire E prepari pronto Ucire la tirale Puoi uscire Puoi uscire puoi provare a uscire anche adesso però oppi perdi questo è già punto perchè hai cambiato hai messo da sotto a sopra quando io cambio posizioni tu hai appunto poi da queste posizioni magari magari mi vuoi prendere il collo da fuori oppi vedete io esco un altro punto fatto soffocamento sei uscito fuori e guarda opp 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 e parlo opp opp vai vor vai 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 entro 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 app shall que controllo и cosa faccio un altro questa è una cosa rinest 세こ ora sembra �an come io cambia, ho, ho, sono qui, tu anche sei liberi, io sono qui, vedi, si controllo, questo è un punto, poi si vuole passare, controllo. Di controllo, si vorrei dormire, metano, Vieni, posso controllarci così, hop, tranquilli, vieni, controllo da lateral, poi da qua se tu mi spiace, piedi, pac, 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 e libero, hop, questi sono solo cambiamenti di posizione, poi da qui, o stesso, hop, vieni, toco, pian piano esco, ginocchio, tranquilli, controllo, vieni, una braccia, qua, altra qui, controllo, e controllo col corpo, questo devi imparare adesso, poi, ogni tanto, altre cose, adesso comincia il lavoro, il cielo è di qua, si difende, si difende, non devi provare in un modo pulito, si, hop, vieni, spiace con spama, e passo, vieni, controllo, vieni, hop, qua, vieni, spala, hop, pian piano, hop, sin crisi, vieni, sempre attaccato, vieni, qua, poi, stiluiti, spiace in questa moda, vieni, tu vuoi attaccato, hop, sei qui, no, hop, qui, hop, qui, deve lavorare in un modo tanto, tanto, leggero e veloce, vieni, provo, hai sentito adesso, si, non riesci a liberare la sua forza, perché è troppo, troppo poco spazio tra, ok, tranquillo, si, occupa, occupa spazio, senti questa cosa, controllo, spade, gomiti a terra, se lui vieni qua, tu vedi, mi gestisci con braccio e con gomito, bravo, ti voglio suffocarti, un cazzo, vieni, un cazzo, bravi, si, questo, andiamo un po' indietro, va via, dubito, si, ma, controllo, hai punti, hai occupato, punto, poi, pensi, oh, dolore, non so se ti permettono di attaccare i cavili, perché a livello leggero possono proibire queste cose, occupa, è quello che deve sapere, deve essere forte, si, ginocchi allargati bene, e controllami bene, vedi, 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 adesso io riesco, vedi cosa faccio, cerco i tuoi ginocchi, ok, hai capito cosa faccio, non vedi, perché da qua, non vedi.